Non è una recensione facile questa. The Callisto Protocol è un gioco che ha subito catturato l'attenzione di moltissime persone. Vuoi perché si sa che dietro a questo titolo c'è il creatore di un franchise molto noto, ovvero Dead Space? E vuoi perché proprio questo titolo cerca in qualche modo di inseguire quell'atmosfera, quelle vibes? Ma ne siamo sicuri? Eh già, perché molte persone continuano a fare questo forte paragone Ah, The Callisto Protocol è un Dead Space che non ce l'ha fatta Oppure, ah, The Callisto Protocol è Dead Space 4? No. Che cos'è che hanno in comune The Callisto Protocol e Dead Space? L'ambientazione sci-fi, horror? Il fatto che dietro la nuca del personaggio ci sia l'indicatore della salute? E l'armatura che un po' la richiama quella di Isaac di Dead Space? Sì, ma oltre a ciò? Oltre a ciò c'è un intero gioco completamente diverso. The Callisto Protocol è un'esperienza che dal punto di vista visivo vi cattura fin da subito Una bella grafica, un bel comparto tecnico E che nella versione giocata da me su PlayStation 5 girava senza alcun intoppo Soprattutto con la modalità prestazioni dove si girava a 60 fotogrammi al secondo granitici Ma allora perché The Callisto Protocol è stato così contestato con giudizi molto altalenanti? C'è chi lo ha lodato tantissimo e c'è chi invece lo ha disprezzato tantissimo Paragonandolo ad un gioco molto noioso, ad un gioco non in linea con gli standard attuali Ed ecco, per me The Callisto Protocol è stata un'esperienza a due facce E già, perché c'è stata una lunghissima parte dell'avventura che io ho adorato Mi è piaciuto il gioco, mi piaceva il ritmo Sebbene la narrazione in generale per tutto il gioco ma soprattutto per una buona metà È completamente centillinata Voi saprete poco del mistero che c'è dietro a questa prigione Del perché scoppia questo casino Insomma, si sa poco Poche informazioni che poi piano piano vi vengono date Ma che rimangono comunque un po' sfumate anche sul finale Ed è soltanto dopo una certa fase di gioco Quando un po' di risposte sembrano arrivare Che il gioco prende una sorta di battuta di arresto un po' strana C'è questa lunga sezione stealth Che da una parte ci sta anche Nel senso sì, è bello avere dei momenti ancora un po' di tensione Però lì, soprattutto in quel frangente Per me un po' l'intero castello di The Callisto Protocol È leggermente iniziato a scricchiolare L'intelligenza artificiale che non era proprio delle migliori Con questi nemici che sì, sono ciechi Te lo dice il gioco Guarda, non c'è Ci sentono molto Che richiamano moltissimi clicker di The Last of Us Ma che però nel momento in cui Mi dici che loro sono super percettibili al suono E ce ne sono tre vicini E io mi avvicino a uno Lo uccido con la cosa stealth Quello fa un urlo della madonna E gli altri continuano comunque imperteriti a camminare tranquilli Mi fa cadere un po' il castello della credibilità Ma oltre a ciò Sorvolando anche su questo The Callisto Protocol ha sicuramente un po' raccolto Approvazioni ma anche disapprovazioni per il sistema di combattimento Combat System che a me sinceramente mi è piaciuto Non ho nulla da dire Anzi, l'ho trovato particolare per questo tentativo di aggrapparsi molto alle schivate Schivate che ovviamente quando le fate in maniera un po' più scenica È anche bellino, no? Questo slow motion così Ti dà anche un po' di gasamento se vogliamo, no? Se ti chiamare schivi così È bello Ma anche qui c'è sempre un'altra faccia della medaglia Cioè nel momento in cui arrivano troppi nemici Cosa che, ripeto, per un buon 60% dell'avventura non succede Cioè siamo sempre con 3, 4, 5 nemici separati E quindi potete un po' sfruttare anche l'ambiente Potete usare le armi Ma quando invece te ne mettono troppi Ecco che anche lì nuovamente il castello della credibilità di The Callisto Protocol crolla Perché? Perché non ti attaccano tutti insieme Oppure tu attacchi uno, schivi La situazione diventa così incasinata che non vedi più niente Perché non sai se hai nemici dietro Nel frattempo ti concentri a combattere solo con quello che hai davanti E a cercare di schivarlo Però nel frattempo ti può arrivare un altro che ti dà un colpo E gli altri invece stanno fermi Cioè c'è un po' di casino Magari si risolve con delle patch Per carità Però per quello che ho provato io Ha proprio due medaglie Cioè da una parte è bello Dall'altra è Dall'altra è bello Dall'altra è Però l'arsenale che abbiamo a disposizione È in realtà molto interessante Perché abbiamo sì questo manganello elettrico Ma dall'altra parte abbiamo anche dell'arsenale da fuoco Arsenale Così come anche il manganello Che possono essere migliorati Con queste estrazioni appunto di costruzione Chiamate Reforge Che mi piace anche molto l'idea Sono delle stampanti 3D È molto figo perché appunto tu hai magari solo un pezzo dell'arma E tu vedi proprio il processo di costruzione Che aggiunge un caricatore Aggiunge un puntatore Un attachment sotto per la stabilità È molto bella come idea Che mi è piaciuta molto Così come anche il bilanciamento se vogliamo Di oggetti reperibili Che poi li prendi Li vendi Per convertirli in crediti Crediti che puoi usare per migliorare l'arma Insomma è un simpatico gioco Che ci sta tutto E funziona molto bene E ad affiancarsi al manganello E alle armi E alla nostra abilità Insomma nel schivare i nemici Ci si aggiunge anche questo guanto particolare Che ci permette sostanzialmente di divertirci Un po' come la Gravity Gun di Half-Life 2 Mi piace sempre quando si riesce ad utilizzare la fisica Nel videogioco come arma Del resto su Half-Life 2 se ne è fatto un grande utilizzo Cioè la Gravity Gun poteva fare qualsiasi cosa Poteva essere usata per fare interi combattimenti Tutto il gioco se vogliamo E con Decalisto Protocol lo si può fare Ma ovviamente con alcuni limiti Non è che potete spammare la manetta Sarebbe bello Avete una batteria sempre dietro sul collo È ovviamente tarata in base al nostro progresso nell'avventura E in base anche a quante batterie ci portiamo nell'inventario Ma cosa si può fare però sostanzialmente Possiamo prendere i nemici e scaraventarli ovunque noi vogliamo E naturalmente nei livelli Insomma nelle zone di questa prigione Ci sono magari pareti con gli spuntoni E quindi che cosa fai? Non gli fai un po' di magopuntura a questi mostri? Oppure anche semplicemente prendi gli oggetti di fuori E loro giustamente addios O magari certe volte ci sono delle eliche Che fai? Lo lanci lì? Lo fa e subia Insomma la creatività dei combattimenti Io lo sono riuscito a percepire E sono riuscito anche a divertirmi molto Con questo combat system Che però anche qua L'altra faccia della medaglia Arriva E già perché Tecalisto Protocol È un gioco che mi è piaciuto Alla fine della fiera L'ho trovato divertente L'ho trovata un'esperienza lineare Perché non è ci sono dei pochi bibi Lineare Un bel sci-fi horror Bello Consistente Tecnicamente superbo Ci sono degli scorci bellissimi Effetti di luce ed ombra magnifici Volti dei personaggi Ottimo lavoro Ma c'è Perché lo dico C'è un boss in particolare Che a me ha fatto dannare Ho avuto anche la cosa di portarlo in live Sull'altro canale Ragazzi è stata un'esperienza traumatica Non so se è perché ero io scemo Non so se è perché è stato un mio problema Però quel boss mi ha fatto perdere un'ora di tempo E io Non ho apprezzato per nulla Il modo in cui è stato fatto C'è proprio l'esecuzione di questo boss Che prima di tutto Era uguale a uno precedente Almeno lì mi metti un mostro diverso Seconda cosa Se io combatto contro il mostrone gigante E il mostrone gigante Con un colpo vi fa fuori Cioè non è che ci sono Non è che No Fra Netto colpo secco Non puoi sbagliare Che succede? Che il gioco fa anche un po' più Di pressione su di te E quindi mette pure L'arrivo di qualche altro nemico I classici minion Se vogliamo Quindi io sto combattendo con lui Devo dare priorità a lui Perché lui se mi colpisce È game over Se arrivano i minion e mi colpiscono Un paio di colpi li posso anche reggere Insomma si crea questa situazione frustrante In cui io schivavo Schivavo e colpivo E schivavo e schivavo E colpivo E schivavo e schivavo e colpivo Poi arrivavano questi altri Che inevitabilmente mi distraevano E anche se premi R2 Per colpire poi il nemico Fatta Hai perso la finestra di tempo Per fare la schivata Arriva il mostrone gigante E ti toglie un braccio Toglie la testa Ti infilza Ti schiaccia a terra E ti stompa col piede la testa Però ripeto È stato proprio un momento buio Del gioco per me quello Poi dopo Il prima e il dopo Perfetti Ma quello è stato proprio Il mio momento di Di aiuto Non so ripeto Se era stato un problema mio Magari lo fate voi Lo fate al primo colpo Sono stato io scemo Lo dico eh Perché devo sempre precisarlo Però Dopo mi sono divertito molto A schiacciarlo eh Con proprio così Una goduria Un'estasi proprio di divertimento Però sì The Callisto Protocol È un gioco che Come la luna di Callisto Ha le sue parti illuminate Ma anche le sue parti più oscure Un titolo che però Io mi sento comunque di consigliare Soprattutto se siete Anche voi amanti un po' Del genere del sci-fi Horror E di questi mondi Super futuristici Dove però C'è sempre qualche problema Di fondo con l'umanità Sono anche interessanti Retroscena Che potete trovare Seguendo i percorsi opzionali Che io ho sempre fatto Perché ci sono sempre Dei bivi secondari Che vi permettono magari Di ottenere più risorse Eccetera eccetera Quindi esplorate il più possibile Però insomma Una bella esperienza Molto lineare Che però non stravolge Il genere È un titolo che Secondo me Necessita Un po' di polishing Perché poi soprattutto Io non ci ho giocato Ma ci sono tantissimi video in rete Si è vista Questa situazione Che la versione PC Ha avuto Purtroppo grossi problemi Di stuttering Eccetera eccetera Sono risolvibili Ci arrivano le patch Come dico sempre Con i giochi su PC Sarebbe sempre bello Avere la day one Già belli che risolti Però la versione PlayStation 5 Fa anche un bello utilizzo Del DualSense Questo lo devo dire Mi è piaciuto tantissimo Sentirete un sacco di effettistica Poi è bellissimo Anche l'audio 3D Funziona molto bene Cioè io riuscivo a capire Che stava arrivando un nemico E questa cosa Nei giochi horror È molto importante Quindi un plauso Anche a questo Insomma Alla fine della fiera Per me Declare sto protocol È un titolo Veramente bello Pulito Ma che però Non ti fa dire Wow Ed è per questo motivo Che a Declare sto protocol Gli do un bel 7.8 Attenderò con ansia Un eventuale secondo capitolo Ma attenzione Perché è in arrivo Poi una serie di aggiornamenti Con New Game Plus E col Pagnabella Con anche l'espansione Che arriverà Nell'estate 2023 Perciò Continueremo a tenere d'occhio Declare sto protocol E tu? Sei pronto a partire Per la prigione di Black Iron? Beh Prima di partire Cosa devi fare Se non guardare L'ultimo video uscito Finora che trovi qua Alla mia destra Oppure a sinistra La playlist del Frankie News La serie che ti tiene Costantemente aggiornato Sulle news Videoludiche Tecnologiche E poi basta Perché altrimenti Sarebbe un TG E poi basta E poi basta